Io sono Dio i profughi e io sono Dio i profughi, e io sono Dio i profughi, tu hai il volo a tutti i desideri. Prima le devastazioni di quattro anni e mezzo di guerra che hanno messo in ginocchio Aleppo, capitale economica della Siria, prima del conflitto tra i ribelli e il governo di Assad. Poi, arrivati al campo profughi di Jibrin, l'accoglienza gioiosa ed entusiasta dei tanti bambini che vi hanno trovato rifugio, dalla città e da tutta la Siria, molti dei quali senza un padre o addirittura orfani. Sono immagini della prima visita di una delegazione della Santa Sede nella città martire siriana dalla fine delle ostilità. A guidarla il neocardinale Mario Zenari, nunzio apostolico in Siria, accompagnato da Monsignor Gianpietro D'Altoso, segretario delegato del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Una delegazione che per cinque giorni, dal 18 al 23 gennaio, ha portato ad Aleppo la solidarietà e la vicinanza di Papa Francesco alle comunità cristiane e musulmane piegate da quasi cinque anni di violenze. Con noi, Monsignor D'Altoso. C'è ancora difficoltà nell'approvvigionamento di acqua, nel servizio dell'elettricità. La vita è molto cara, quindi le conseguenze della guerra ci sono ancora, anche se grazie a Dio la fase del conflitto vero e proprio in città si è concluso. Nel corso della visita, la delegazione ha inaugurato un centro di assistenza umanitaria e distribuzione di alimenti gestito da Caritas Aleppo nel quartiere di Anano, nella zona est occupata dai ribelli, dove la popolazione è quasi completamente musulmana. Ha incontrato il mufti di Aleppo e visitato la grande moschea. Nella chiesa latina di San Francesco, accolti dal parocco padre Ibrahim al-Sabag, il cardinal Zenari e Monsignor D'Altoso hanno incontrato la comunità e partecipato alla festa delle famiglie con coppie che festeggiavano l'anniversario di matrimonio. Una rappresentanza viva della comunità cristiana di Aleppo. Una comunità approvata, però devo dire che nello stesso tempo è anche una comunità che ho visto per certi versi anche forte, unita e anche pronta a rimettersi in piedi, a rimettersi in cammino dopo tutte queste sofferenze. Ho visto molte belle iniziative in loco sviluppate dalle comunità cristiane stesse o dai loro pastori, scuole professionali già in vista di una possibile ricostruzione, grandi iniziative a favore della famiglia, delle famiglie non solo per il loro sostentamento economico ma anche per la loro formazione spirituale, oltre chiaramente alle grandi attività umanitarie che sta svolgendo per esempio Caritas Aleppo. Quindi tutto questo è possibile anche grazie all'aiuto esterno, ma è soprattutto possibile perché ci sono delle risorse interne e delle persone disposte a farlo. Sempre nella Chiesa di San Francesco la delegazione della Santa Sede ha partecipato ad una preghiera ecumenica in occasione della Settimana per l'Unità dei Cristiani, presenti i rappresentanti di tutte le comunità cristiane di Aleppo. Poi ha verificato le condizioni di alcune strutture ospedaliere cattoliche. In una di queste, accompagnati dal personale medico e dalle religiose che vi prestano servizio, gli inviati del Papa hanno pregato davanti a un crocifisso realizzato con le pallottole sparate contro l'ospedale e ha mirato un presepe con una didascalia in arabo realizzata sempre con pallottole usate. Pace in Siria Noi dobbiamo cominciare a guardare anche per il futuro. Stiamo individuando due fasce o due ambiti importanti, che sono uno la sanità, per cui si sta pensando anche ad un progetto un po' più ampio per la Siria, per mettere in piena efficienza gli ospedali cattolici. E poi direi, vorrei quasi dire soprattutto, mi sembra che un campo fondamentale sia l'educazione. Ci sono tantissimi bambini che anche abbiamo incontrato, ma ci sono anche tantissimi bambini che hanno bisogno anche di essere educati, di andare a scuola, di essere formati come uomini, perché questa è la chiave del futuro. Se noi non potremmo pensare ad una Siria in futuro, se non siamo in grado anche di aiutare a educare le giovani generazioni. Qui amo riprendere le parole dell'Unzio Apostolico, che diceva che non si tratta solamente di ricostruire le case, ma si tratta anche di ricostruire gli spiriti, gli animi. E lì, penso, la Chiesa Cattolica, attraverso i suoi diversi organismi e diverse istituzioni, può dare un contributo determinante.